non c'è più il legno se lo son fregati non c'è più il legno non c'è più se vai giù di lì andiamo alla scaletta se non c'è più l'unica cosa è girar fuori andati dalla parte di là c'erano dei bei muri ma passiamo anche di là sono anche lì avanti i muri tu sei fissato con i muri no perché andiamo lì usciamo prima dalla scaletta possiamo uscire dalle due cose prima della scaletta c'è lì quella di rete ma dai campione dai 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 fallo spampi e quello che c'era là quel legno lì allora anche qua c'è l'altro ti ricordi che passano su loro e loro vanno figa non c'è lì io qua c'è l'ordine ino senti si pensi che se no l'uscita era questa potremmo uscire anche qua, o lì o qua, cioè là avanti puoi uscire sulla rete dove ci sono i due coppetti, ho capito, fatelo aprire fuori minchia io qua non gli do a mi dispiace qua, ho uscito qua, qua dobbiamo andare qua devi aprire più gli occhi e la moto ti arriva in strada e la macchina te la schiaccia no, usciamo lì Fausto, usciamo lì avanti dove c'è la rete brava, ma sei fuori non fa le scemenze, vai in giù, ti faccio fare la rete sperando che riusciamo a uscire guarda che è prima eh guarda che è prima eh guarda che è in giù guarda che c'è mai guarda che c'è mai è riuscito da due no due è andato dritto guarda che quello è andato dritto guarda che cosa è guarda che ci prendiamo un ginocchio da te un ginocchio da te tagli un pezzettino arrivi col davanti e basta un pezzettino fino a qua e ti fermi poi ti tiro su un pezzettino un pezzettino un pezzettino avanti un pezzettino e